Musica Ben ritrovato il consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In apertura alla politica Francesco Boccia, capogruppo del PD al Senato, è tornato a parlare delle amministrative baresi, confermando Vito Leccese come candidato scelto dal partito. Il senatore si è soffermato anche sul rapporto con il Movimento 5 Stelle e sul ruolo di Michele Laforgia. Vediamo. Abbiamo sostenuto l'assemblea votato, ora è Leccese che guida la coalizione, ha esperienza, autorevolezza per guidare questo processo politico. Il senatore Francesco Boccia conferma la linea del Partito Democratico per le prossime elezioni amministrative baresi. Il capogruppo del PD al Senato è tornato a parlare pochi giorni dopo l'assemblea che ha decretato il nome di Vito Leccese come successore di Antonio De Caro. Una scelta che non ha convinto l'intera coalizione. Il Movimento 5 Stelle infatti continua a defilarsi. Proprio Boccia si è soffermato sul rapporto con il Pentastellati. L'avversario è la destra, il Movimento 5 Stelle è dentro il grande perimetro del centro-sinistra. Ci sono città in cui siamo alleati, città in cui non siamo alleati. C'è il doppio turno. Ora dobbiamo parlare ai baresi che vogliono continuare sulla scelta di De Caro a far sì che Bari continui ad essere bella. È una città attraente. Chiosa finale su Michele Laforgia, il penalista barese primo a fare un passo avanti all'interno della coalizione, ha dichiarato che non è intenzionato a farsi da parte. Nei giorni scorsi ha incontrato proprio Leccese, un dialogo che al momento non ha sortito effetti significativi sulla situazione. Il capogruppo del PD al Senato auspica una soluzione in tempi brevi così da convergere su un nome unitario. Michele è un amico, compagno di tante battaglie culturali e politiche. Sono sicuro che uniremo. Si può trovare una sintesi. Sì, ma lo faranno loro. È compito loro. Io faccio altro. Per mia fortuna ho dato un contributo per far far sintesi al PD e ora toccherà a Vito e Michele a lavorare insieme. Sono sicuro che lo faranno. Cambiamo argomento. Torniamo a parlare delle proteste degli agricoltori pugliesi. I trattori torneranno a sfilare nel Barese già domani attraversando alcuni paesi dell'area metropolitana. A Rutigliano sarà letta una lettera ai bambini per far comprendere anche ai più piccoli il senso delle manifestazioni di questi giorni. Ce ne parla Roberto Maggi. Da giorni sono fermi sulla via che porta Conversano. Sui loro mezzi sventolano le bandiere dell'Italia. Il presidio di Rutigliano è costituito da uno dei gruppi di liberi agricoltori che in tutta Italia stanno protestando autonomamente a bordo dei loro trattori per far valere le ragioni di un settore vicino al collasso. Mentre si preparano a una nuova protesta ci mostrano qual è la situazione nelle campagne del sud-est barese. Tra terreni abbandonati e strade dissestate raggiungiamo alcuni dei fondi di chi sta resistendo. Guardiamo per esempio l'uva, una delle eccellenze pugliesi. La concorrenza di Spagna, Grecia e Turchia ha piegato molti agricoltori. Del resto, a fronte di una spesa di almeno 50 centesimi al chilo, rivendere ad appena 60 centesimi, se tutto va bene, diventa difficile da sostenere nel lungo termine. I costi sono molto elevati, da dieci anni a questa parte. Quindi ci troviamo con delle difficoltà maggiori nella conduzione. Dieci anni fa, che ne so, un operaio lo pagavi. Lo trovavi innanzitutto perché abbiamo carenza di manodopera. La giornata costava molto meno. Ad oggi anche l'operaio ci chiede un valore in più perché giustamente le spese anche per lui sono aumentate. Noi vengono in campagna e ci pagano l'uva, se ci va bene, 60 centesimi. Poi ovviamente loro hanno dei loro costi di imballaggio. Però poi si ritorna al supermercato e troviamo il prodotto a tre volte. Troviamo addirittura, la Red Globe l'abbiamo trovata anche a tre euro, quattro euro. Altra eccellenza del territorio è la ciliegia ferrovia. Come se non bastassero tutte le situazioni economiche, ci si mette anche il clima. A febbraio si vedono le prime gemme. Con il freddo saranno frutti che non vedranno la luce. L'oro rosso di Puglia rischia così di andare in fumo. Troppo caldo, quindi la pianta, da qui noti che la pianta non sta dormendo in maniera come dovrebbe dormire. Quindi germoglia e abbiamo la gelatura e questo è un frutto perso. Noi abbiamo la forza di resistere per, parlo della mia azienda, per due motivi. Per la passione e per il valore che diamo alla terra. Questa terra è stata sudata e l'idea di perderla non va bene. Io ho 23 anni e ho lasciato la musica per continuare dalla quarta generazione. E così i trattori torneranno a sfilare già questo giovedì mattina. Partendo da Rutigliano attraverseranno diversi paesi dell'area metropolitana, passando anche per una scuola per leggere una rettera ai ragazzi. Vogliamo lanciare un messaggio e anche far capire ai nostri bambini più che altro, perché sono i nostri figli, sono i figli della nostra terra, che questa manifestazione soprattutto è centrata su loro, perché noi vogliamo tutelare soprattutto il loro futuro. Invece noi passiamo alle notizie provenienti dal nostro sito www.telebari.it Lo facciamo con Italo Cinquepalmi. Ciao Italo, buonasera. Buonasera Giuseppe. E allora una donna di 41 anni è stata aggredita questa mattina in un appartamento di grumo da un uomo di circa 70 anni, che è stato bloccato dai carabinieri. La vittima, soccorsa dal personale del 118 per alcune ferite alla testa, a quanto pare causate da un martello, è stata condotta in condice giallo all'ospedale San Paolo di Bari. Non si esclude che l'aggressione sia stata successiva a un approccio sessuale da parte dell'uomo, che al rifiuto della 41enne avrebbe reagito con violenza. E andiamo avanti. Attimi di paura. Questa mattina a Giovinazio, in via Vittorio Veneto, un uomo di 52 anni in evidente stato di alterazione, avrebbe minacciato un condomino brandendo un'ascia. La presunta vittima si sarebbe rifugiata in auto, riuscendo a contattare le forze dell'ordine prima di allontanarsi dallo stabile. Le ragioni di tale odio, secondo quanto riferito agli inquirenti dalla vittima, risiederebbero in una sorta di ossessione del 52enne, per cui l'aggredito sarebbe il demonio. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. E chiudiamo, a causa di furti compiuti e danni degli sportelli automatici di prelievo contanti nelle province di Foggia e Bat, Poste Italiane ha deciso che gli ATM delle due province non saranno operativi dalle 23.30 alle 6.30 del mattino. La decisione è stata presa per ragioni di sicurezza, spiega in una nota poste, evidenziando che dallo scorso dicembre a oggi gli assalti compiuti nelle due province pugliesi rappresentano il 42% del dato nazionale. Bene, con questo è tutto per oggi. A te buona serata. E grazie, grazie al nostro Italo Cinque Palmi. Intanto oggi pomeriggio la comunità palestinese ha organizzato un sit-in davanti alla sede della RAI per protestare contro le recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'azienda. Viva terra, libertà! Viva terra, libertà! Viva terra, libertà! Sono arrivati in un centinaio srotolando una grande bandiera palestinese davanti alla sede RAI di Via Dalmazia. È cominciata così la protesta della comunità palestinese della Puglia dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'azienda che con un comunicato letto da Mara Venier durante lo speciale Sanremo ha espresso solidarietà allo Stato israeliano. Parole che hanno scatenato la polemica delle comunità palestinesi italiane. La protesta partita da Torino sta prendendo piede in tutta Italia. Sul posto presenti agenti della polizia e carabinieri a presidiare l'ingresso della sede RAI mentre gli agenti della polizia locale hanno gestito la viabilità stradale. Allora noi oggi siamo qui per chiedere alla RAI di dire la verità sulla Palestina. Non è ammessibile che il servizio pubblico, la radio, la televisione italiana trasmetta quasi sempre, fa da porta a voce dell'esercito israeliano. E non parla quasi mai del genocidio che sta in atto a Gaza. E in Palestina ci sono anche Gisjordiana e Gerusalemme. Non c'è stata alcuna menzione e nessuna solidarietà alla popolazione palestinese che subisce la violenza immane dello Stato criminale sionista, spiegano i partecipanti al sit-in, che hanno intonato più volte il coro Fri Palestina. Non è più ammessibile. La RAI deve fare un servizio di informazione, non disinformazione, non deve batteggiare per Israele, ma deve essere come un servizio di stampa al di sopra delle parti e deve dire soltanto le cose come stampa. E oggi si celebra la festa di San Valentino, proprio per questo il comune di Bari insieme a Federfarma ha inaugurato la nuova campagna di comunicazione contro la violenza di genere dal nome Questo non è amore. Ce ne parla Serena Russo. I numeri sono altissimi, non si stanno fermando. Purtroppo anche a livello nazionale assistiamo a femminicidi, di cui l'ultimo proprio, ultimi due femminicidi proprio ieri. Quindi non possiamo fermarci. Purtroppo è importante ancora arrivare a tutte le donne e anche alle ragazze, perché l'età si sta abbassando tantissimo. I numeri sono ancora alti e continuano a crescere con l'aggravante che si abbassa sempre di più l'età media delle vittime. Ecco perché l'assessorata al welfare del comune di Bari ancora una volta si impegna assieme a Federfarma Bari in una campagna di comunicazione dal nome Questo non è amore. Noi abbiamo pensato proprio nel dialogo e nella frequentazione con l'assessorato al welfare del comune di Bari che anche le farmacie possono essere non solo luogo di ascolto ma anche di diffusione di messaggi positivi. Il primo messaggio che noi vogliamo lanciare è che la donna non è mai sola in questi eventi. Già da domani è la prima formazione per farmacisti, spesso prima interfaccia in caso di violenza. Allenarli ad ascoltare, a riconoscere i segnali e indirizzare in caso di anomalie è l'obiettivo di questo primo step della campagna. Su tutti gli scontrini sarà ben visibile il 1522 numero nazionale gratuito attivo H24 con operatrici esperte sul tema e con la presenza anche di un QR code che permetta collegamenti rapidi alle informazioni. Una forma di amore proprio nel giorno di San Valentino ma di amore vero che implichi rispetto, empatia e soprattutto mai violenza. Viva l'amore, ma l'amore è quello vero, quello che non fa male, quello che non controlla, quello che non maltratta. Perciò proprio in questa giornata abbiamo lanciato una nuova campagna di comunicazione con tutta la, come ha sessorato all'Welfare, centro antiviolenza e con tutta la rete delle farmacie di Bari. E restiamo in tema perché la strettoia di Santa Lucia, un luogo iconico nella città vecchia di Bari, si è vestita a festa proprio in occasione di San Valentino e il servizio è di Raffaella Di Renzo. Bari deve andare avanti, non poteva rimanere una stradina buia, tenebrosa, da aver paura addirittura, specialmente la sera, e quindi è meglio che sia tutta illuminata. Grazie a Giuseppe Lobuono, poeta barivecchiano, che è esposto al presidente del primo municipio di Bari, Lorenzo Leonetti, i problemi della strettoia di Santa Lucia, si è giunti all'illuminazione dal suo addobbo per tutto l'anno. È un regalo fatto al borgo antico proprio nel giorno di San Valentino, festa degli innamorati. A San Valentino? Ogni bacio, dipende d'oggi, come una domanda di arena. La strettoia che collega l'arco basso con l'arco alto è un luogo noto anche come il vicolo del bacio, posto più antico e più storico della città. È denominato il vicoletto del bacio, che l'abbiamo fatto denominare noi, perché nel corso del tempo abbiamo portato qui le coppie e il giorno di San Valentino facevano ulteriormente la dichiarazione d'amore alla propria cara o al proprio caro e poi sotto questa stupenda edicola si davano un bellissimo bacio. Spinolo Buono ha anche scritto una poesia sul vicolo dal titolo Sotto la strettoia di Santa Lucia. Bari diventa sempre più un punto di riferimento per tutti coloro i quali desiderano immergersi nel fascino e nella magia della storia e delle tradizioni, ma anche di un posto in cui romanticamente scambiarsi un bacio. Sotto la strettoia di Santa Lucia tutti i anni passano ogni giorno, dalla mattina alla sette, dalla notte alla notte, ognuno, ognuno di giovanotte. non potete fare almeno alzare la carta, perché in me c'è un quadro di San Valentino. La chiami, le faccio un segno della croce, prego e dice fare un step uno per io. E si è tenuto nell'aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza di Bari un incontro tra CGL e Ancipulia per discutere sull'autonomia differenziata. Ce ne parla Letizia Giostra. Si torna a parlare di autonomia differenziata, uno degli argomenti più caldi all'inizio dell'anno, ma questa volta non in piazza, bensì nell'aula Aldomoro dell'Università di Bari. Una proposta avanzata dalla maggioranza molto contestata dai partiti di sinistra, perché potrebbe aumentare il divario tra Nord e Sud Italia. Da giorni le manifestazioni in tutta la penisola contro il disegno di legge sono aumentate tra i cittadini presenti i sessi sindaci di comuni siciliani, calabresi e campani. Nel mentre in Puglia si è discusso su come contrastare la riforma con la presenza di CGL, Anci, Docenti Uniba e come ospite speciale Francesco Boccia, capo gruppo PD al Senato, che appena giunto in aula ha stretto la mano Michele Laforgia seduto in prima fila. Sotto gli occhi di tutti c'è stato uno scambio tra Fratelli d'Italia e Lega, premierato da un lato per Giorgia Meloni che insiste per la concentrazione di poteri su un'unica persona e soprattutto per ridimensionare i poteri del Capo dello Stato e dall'altra l'autonomia cara a Salvini e a Calderoli che divide il paese in più parti. Perché sono delle richieste da parte delle regioni che configurano la nascita di alcuni stati interni all'Italia. E adesso invece parliamo di una gastronomia perché è stato inaugurato il Festival del Cioccolato in Piazza Umberto. Vediamo. Un viaggio dolcissimo tra le regioni d'Italia in Piazza Umberto è stato inaugurato il Puro Cioccolato Festival. Molti espositori in tutta Italia che decidono ancora di venire a Bari per darci questa dolcezza il giorno di San Valentino. Per quante giornate? Fino a domenica ci sarà la possibilità di degustare ma anche passeggiare e farsi anche dei selfie un po' romantici con delle installazioni dedicate all'amore. 20 stand e 13 espositori con le prelibatezze tipiche dei territori. Arrivano da tutta Italia dalla Sicilia al Piemonte dall'Abruzzo alla Campania dal Lazio quindi diciamo questo rappresenta un modo per essere all'interno di confattigianato presenti nella città di Bari e poter esporre quelle che sono le qualità dolciarie di un cioccolato che ormai i nostri pasticceri sono diventati veramente degli artisti. E tra qualche mixardito e i grandi classici è impossibile resistere al cioccolato coccola per il palato e per lo spirito e non manca una buona dose di romanticismo per celebrare con dolcezza la giornata degli innamorati. Abbiamo quella di Giulietta che è un cioccolato rubi con crema rubi all'interno e una nocciola intera poi abbiamo quello di Romeo che sarebbe il tipico bacio che è quello là con la nocciola tritata cioccolato fondente e una nocciola intera del Piemonte. La Perugina rispolvera un cioccolato vintage quello il variegato alla banana è una ricetta vecchia della Perugina dei origini. Il parrozzo è il dolce per l'eccellenza dell'Abruzzo con del pan di spagna aromatizzato all'arancia e farina di mandorle questo qui invece è un soffione di ricotta è una ricotta soffiata al forno con limone e cannella e quelli davanti a lei sono dei bocconotti cioccolata mandorle e pinoli e mosso cotte uva. Adesso invece parliamo del Laboratorio Adolescenti Bari prosegue il percorso di coprogettazione del nuovo servizio promosso dall'assessorato al welfare. Un incontro di coprogrammazione organizzato dall'assessorato comunale al welfare per condividere proposte idee progettuali in vista dell'imminente avvio di Lab Laboratorio Adolescenti Bari in via Capruzzi nuovo spazio di ascolto sostegno orientamento aggregazione cittadinanza attiva rivolta ai ragazzi e alle ragazze della città. Lab infatti nasce grazie all'impegno congiunto dell'assessorato comunale al welfare e di unicredit all'interno di un immobile di circa 200 metri quadri in passato adoperato per ospitare una filiale della banca che unicredit ha adesso concesso in comodato d'uso gratuito al comune di Bari fino al 2027 perché venga destinato ad attività volte a promuovere il benessere di adolescenti e giovani. Il comodato prevede per la gestione dell'immobile sia affidata in realtà del terzo settore per questo il comune di Bari tramite il centro antiviolenza comunale ha scelto la cooperativa sociale Medi Hospice per la promozione di interventi a carattere educativo ad alto impatto sociale anche in rete con altre aggregazioni all'incontro insieme all'assessore al welfare Francesca Bottalico hanno partecipato i rappresentanti di diverse realtà della rete cittadina del welfare ma non solo interessate a offrire il proprio contributo in termini di esperienza e progettualità le prime attività programmate all'interno di lab riguardano sportelli di ascolto universitari spazi per fuorisede gruppi di parola per adolescenti laboratori e pomeriggi di giochi di ruolo sportelli di ascolto per giovani e ragazzi eventi di contrasto alla violenza di genere e adesso invece parliamo di automobili la nuova Toyota C-H-R arriva a Bari scopriamo insieme questo nuovo mezzo in questa intervista abbiamo la voglia di andare incontro al paese incontro alla città per far conoscere questo nuovo modello che abbiamo lanciato ufficialmente sul mercato lo scorso mese a metà gennaio è un'autovettura full hybrid o plug-in non è un'auto completamente elettrica ma rientra nel slot delle emissioni più basse e ha contenuti tecnologici accessori assolutamente al di sopra del suo segmento di appartenenza via Argiro come il centro città di Bari è il cuore pulsante di questa città meravigliosa che è la città del sole del mare e della bella gente soprattutto quindi quale contesto migliore per inglobare un'autovettura così meravigliosa e così avanti dal punto di vista tecnologico siamo usciti dalle nostre sedi che sono sedi complete che hanno reparto sales esposizione vendita reparto officina ricambi noleggio a breve noleggio a lungo proprio per andare incontro alla gente abbiamo la sede a Modugno sulla strada statale 96 a Monopoli abbiamo una filiale completa di servizi sempre assistenza ricambi e noleggio a breve e lungo e a Matera abbiamo lo stesso una filiale completa con tutti i servizi a 360 gradi ed è arrivato il momento di passare alle notizie provenienti dalle altre province pugliesi partiamo da Brindisi dove oggi si è svolta la presentazione degli interventi che riguarderanno l'aeroporto appunto Brindisino e che cambieranno radicalmente il turismo locale è presente alla cerimonia anche il presidente della regione Puglia Michele Emiliano il servizio è di Riccardo Celli sono stati presentati oggi gli interventi di riqualifica delle infrastrutture dell'aeroporto di Brindisi che segnano inevitabilmente un punto di svolta per il turismo locale tra gli interventi un piazzale di sosse aeromobili di nuova costruzione di circa 15.000 metri quadrati e l'allungamento di una delle piste presenti la cerimonia di presentazione tenutasi nell'area delle partenze internazionali ha visto la partecipazione del vice ministro e dei trasporti Galeazzo Bignami in streaming del presidente della regione Puglia Michele Emiliano e del presidente di aeroporto di Puglia Antonio Maria Vasile oltre che di varie figure istituzionali locali secondo Vasile gli interventi proiettano l'aeroporto di Brindisi nel futuro posso garantire che invece la digitalizzazione e tutto ciò che inauguriamo oggi è estremamente importante e unico nel suo genere che pone questo aeroporto questa rete aeroportuale non al passo con i tempi supera i tempi chi ha sottolineato come questa sia un'importante opportunità per tutta la Puglia innanzitutto una bella giornata per Brindisi per il suo aeroporto e per la regione Puglia potenziale la nostra capacità di ospitare compagnie aeromobili è determinante per il continuo incremento di traffico che si verifica qui a Brindisi e noi invece cambiamo provincia ci spostiamo a Palo del Colle nel Barese dove si è tenuto ieri il Palio del Vicio la storica cavalcata tra gli eventi più attesi della cittadina vi abbiamo mostrato in diretta tutta la competizione con la premiazione di Cari e Cavalieri e con una sintesi dell'evento nel servizio di Raffaella Di Renzo questo è l'anno delle radici il ministero degli esteri ha finanziato nel 2024 il turismo delle radici e noi pensiamo a tutti i pugliesi del mondo che vorrebbero essere qua e che magari tramite telebari riescono a vederlo questo è l'anno delle radici sottolinea il direttore generale di Puglia a promozione Luca Scandale nel corso dell'edizione 2024 del Palio del Vicio migliaia di persone hanno riempito le strade di Palo del Colle per questo torneo cavalleresco che affonda le sue radici nel lontano XV secolo una competizione medievale quindi che però attira l'attenzione di un pubblico variegato tra cui tanti turisti provenienti da tutta la Puglia fa parte dell'identità di questa città rappresenta le radici nella cultura contadina che in qualche maniera ci sono state consegnate dai nostri genitori progenitori e avi dopo un inizio ritardato causa maltempo il Palio del Vicio 2024 ha avuto il suo vincitore Giuseppe Turturro del Rio nel lago San Giuseppe che è riuscito a bucare la vescica del Vicio dopo ben sette giri del percorso lungo il quale erano assiepate centinaia di persone provenienti da tutta la Puglia Turturro ed il suo destrero questore murgese di 4 anni sono stati festeggiati dalla folla esportati in trionfo un'edizione seguitissima del Palio anche dai telespettatori collegati in diretta con la nostra rete la tradizione appunto ci porta la volontà di portarlo ancora avanti e alzare ancora il livello di questo evento perché comunque come dico io io come assessore dobbiamo sentirlo appartenenti il Palio del Vicio è una cosa che ci appartiene che dobbiamo portare avanti per le future generazioni quanto vi piace ragazzi il Palio del Vicio carissimo e andiamo ora a Foggia dove i carabinieri hanno arrestato Vincenzo Frate Pietro classe 1969 latitante dal 16 marzo scorso uno degli esponenti di spicco della criminalità locale il servizio è di Nicola Saracino nella serata di ieri i carabinieri del comando provinciale di Foggia hanno arrestato a Carovigno Vincenzo Frate Pietro classe 1969 inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi del ministero dell'interno e ricercato dal 16 marzo dello scorso anno per essere sfuggito alle ordinanze di custodia a cattolari in carcere di cui era destinatario per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nell'ambito delle operazioni chiamate cocktail e game over in entrambe le investigazioni sarebbe emerso il ruolo di Frate Pietro che nell'operazione game over per la quale è stata contestata l'aggravante dell'aggevolazione mafiosa è stato individuato come grossista e stabile fornitore di grosse quantità di droga a favore della cosiddetta società foggiana per lo stesso reato aggravato dell'aggevolazione mafiosa Frate Pietro è stato di recente condannato in primo grado a 9 anni e 8 mesi di reclusione nell'ambito dell'operazione Nemesi della DDA di Bari il latitante è rintracciato nel corso di un prolungato servizio di osservazione nei pressi dell'abitazione dove si era nascosto al carovigno si trova ora in carcere a Brindisi si tratta di un'importante mossa dello Stato nella lotta della criminalità del territorio foggiano e spostiamoci invece a Trani dove venerdì 17 febbraio va in scena Palazzo Beltrani Bastianazzo con Antonio Memeo che fa emergere il personaggio dei Malavoglia di Verga si tratta di una produzione del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi ce ne parla Massimo Pillera allora ancora il teatro protagonista questa volta con i Malavoglia a Palazzo Beltrani a Trani il 17 febbraio si il 17 febbraio all'ora 21 presso Palazzo delle Arti Beltrani porterò in scena come regia e come attore questa lettura drammatizzata e interpretata dal titolo Bastianazzo il quale Bastianazzo è un personaggio tratto dai Malavoglia di Verga Bastianazzo fa parte di una trilogia chiamata Fantasmi scritta da Michele Santeramo il quale ci restituisce la lettura di un tema molto forte e potente che è quello della pace la pace interiore la pace in generale il cui incipit è la pace è a perdere solo chi ammette di aver perduto può stare in pace io vi invito a venire a Palazzo Beltrani il 17 prossimo questo prossimo sabato perché non ve ne pentirete avrete modo di apprezzare un momento di leggerezza e di poesia poi un piccolo accenno l'8 marzo l'8 marzo ad Andrea presso l'auditore Monsignor Di Donna come regista porterò in scena il Palazzo d'Occidente che è una storia che tratta l'eccido delle sorelle poco Bene ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e buona serata Amici di Trebi Meteo ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì l'anticiclone presente sull'Europa centro-occidentale garantirà condizioni di stabilità anche sull'Italia che dunque vedrà qualche giorno senza precipitazioni e con cieli in prevalenza sereni anche l'immagine delle nubi infatti ci mostra un'Italia abbastanza sgombra da nubi seppur con il passaggio di qualche velatura nube alta e stratificata da ovest verso est veniamo dunque alla previsione con una giornata di giovedì caratterizzata da sole da nord a sud della penisola velature nubi alte di passaggio sulle regioni centro-settentrionali e possibilità di foschie e banche di nebbia specialmente al mattino sulla pianura padano orientale e sulle coste dell'alto adriatico le temperature non subiscono grandi variazioni un po' freddo di notte al primo mattino poi durante il giorno si salirà intorno ai 15-17 gradi su gran parte delle nostre località per il momento è tutto per maggiori dettagli c'è la nuova app gratuita di trebi meteo un po' freddo un po' freddo